Questo che sta per concludersi è stato un anno eccezionale, purtroppo in senso negativo, un anno che segnerà in maniera triste anche il Natale. L'ultimo DPCM del governo ha di fatti allontanato l'idea delle feste al ristorante, dei cenoni in famiglia con molte persone, degli assembramenti in piazza con il divieto di spostarsi tra i comuni nei giorni rossi e il coprifuoco confermato alle ore 22. Saranno le forze dell'ordine a vigilare sul rispetto delle regole con un dispiegamento di uomini e mezzi, in particolare nei giorni di festa. Il sistema della sicurezza prevede un meccanismo abbastanza collaudato. Le tematiche, a di là delle direttive che ci pervengono dal ministro, dal capo della polizia, vengono poi declinate sul territorio con incontri in prefettura, con i comitati provinciali, riunioni di coordinamento, col signor prefetto e con le altre forze di polizia, dove in termini di obiettivi si definiscono le linee guida sulle quali ci dobbiamo muovere. Poi in quest'ora c'è il momento tecnico, l'ordinanza del quest'ora che mette a sistema tutti i dispositivi di prevenzione che vengono dispiegati sul territorio. Si continuano a registrare una serie di furti e questa è una situazione che rende ancora più difficile il quotidiano dei cittadini. Certamente sì, perché abbiamo registrato una differenza sostanziale dal primo lockdown, che chiaramente era più rigoroso e più rigido, dove ovviamente non usciva nessuno di casa. In quel periodo abbiamo registrato un crollo, non solo statistico, ma reale dei cosiddetti reati predatori, quelli che danno veramente fastidio a tutti, perché c'è l'aggressione, la propria sfera privata, i furti in casa e quant'altro. In questa situazione, posso dire questo, la difficoltà per noi è maggiore perché dobbiamo aumentare i controlli anti-covid, ma non possiamo nemmeno mollare sulla prevenzione e controllo del territorio, anche se in realtà si sposano, perché non è più come la prima volta dove tutti veramente stavano a casa, ci sono molte più deroghe, molte più possibilità di movimento. E capite bene che anche se controlliamo decine e decine di migliaia di persone, non è che si possa controllare sempre tutti, per motivi ovviamente oggettivi.